Qui in un luogo particolare, perché? Perché siamo a Parlamento 5 Stelle, abbiamo tutti i parlamentari, come vedete non c'è scorta, non c'è nulla, perché sono cittadini, cittadini 5 Stelle. Siamo qui con... Maggio Ciorifici e tutti gli altri che vediamo, li inquadri, tutti qui, tutti a disposizione dei cittadini, quindi dovete venire perché il sistema soltanto così lo buttiamo giù, soltanto rompendo queste barriere, cittadini, portavoce, loro hanno creato un castello, noi lo stiamo buttando giù, per il futuro, per chi non è qui oggi, perché devono venire? Quello che noi chiediamo è partecipazione, perché se in questo sistema vogliamo abbatterlo, è con la partecipazione di tutti e di nessuno, soprattutto con la consapevolezza di parte dei cittadini, che la situazione così non può sicuramente andare avanti, quindi abbiamo bisogno che ci sia innanzitutto un cambiamento culturale, quindi un nuovo modo di vedere le cose, e questo cambiamento può venire solo se i cittadini si rendono conto che devono essere parte attiva del cambiamento.